Musica Musica Signori benvenuti, siamo ritornati dove avevamo cominciato perché se vi ricordate il 16 settembre la prima conferenza del ciclo altri risorgimenti si è tenuta proprio qui all'auditore di San Paolo a Civitano Alta. Era il professor Roberto Martucci nel sistema di Macerata, l'invenzione dell'Italia Unita. Ora dopo molti mesi, all'ottava conferenza, siamo a chiudere il cerchio. Nel frattempo le sei conferenze precedenti si sono tenute presso i Salesiani, giù al porto, al teatro Pier Alberto Conti. Vi ringraziamo appunto Don Giovanni Molinari, il parroco che ci ha ospitato per sei volte e ora ritorniamo qui a Civitano Alta grazie all'ospitalità concessa da Don Alberto Spito, il parroco della collegiata qui di San Paolo Apostolo. L'argomento di oggi è Carità di Patria, la spiritualità, del risorgimento tra poesia, religione ed affettività, 1820-1860. E il relatore è il professor Cosimo Franco Manni, che come vedrete dal cognome, avete visto il cognome, è mio fratello. Questa è proprio una conferenza rispetto alle altre, che bene o male sono state conferenze per la metà, conferenze che giravano già in giro per l'Italia, penso alle Pellicciari, penso a Fioravanti, penso a Morganti, a Pucci Cipriani, conferenze che sono arrivate anche a Civitanova per la prima e penso forse l'ultima volta. Le altre conferenze, Martucci, Illuminati, Giraudo e appunto Manni, sono invece conferenze fatte appositamente per noi, cioè non sono state fatte da altre parti, ma sono delle produzioni proprio per questo ciclo di altri risorgimenti. Naturalmente ringraziamo anche l'Archeoclub di Civitanova, la professoressa Anna Maria Vecchiarelli e gli sponsor che hanno fatto sì, ICA ed Eurosuolo e che questo ciclo vedesse la luce. Ringraziamo tutti i collaboratori, Sergio Fucchi del Centro Studi che è stato il suo alert cameraman. Tutte queste conferenze sapete sono nel nostro sito www.centrostudicivitanovesi.it e quindi da qui a qualche giorno lo troverete online e sono gettonatissimi. E poi ringrazio il professor Raimondo Giustozzi che insieme a me ha curato tutta la parte logistica e tecnica di questo ciclo di conferenze. Prima di lasciare la parola al redatore vorrei invitare un attimo il parroco, Don Alberto Spito, a fare un saluto ai presenti. Grazie. Intanto vi ringrazio di questa presenza, anche questo nostro auditorium vede l'attività di tante realtà, insomma, quindi questa è una realtà che la qualifica perché riflettere un po' sulle 150 anni dell'Unità d'Italia ci fa andare le radici nostre di questa nostra patria. Io sono contento di, quando ho visto il tema, ho stato contento di vedere che l'Italia nostra ha bisogno di spiritualità, di poesia, di religione e di affettività. Mi auguro che, come ieri, anche oggi possiamo dare questi che sono i valori più grandi del vivere civile, perché senza questi valori del vivere civile, credo che il vivere civile diventa arido e non produce niente. Grazie della presenza, grazie della parola e siamo qui ad ascoltarlo con gioia. Benissimo, grazie. Allora, lascio la parola a Franco Manni, punto con il suo intervento. Sì, ecco, io magari per comodità non uso il microfono perché parlo forte, mi sentite chiaramente. No, per il video. Ah, se per il video, ho capito. Ecco, allora, come vedete anche qui dalla dispensa distribuita, la frase che dà, come dire, il filo conduttore di questa mia comunicazione è la frase, di solito citata in abbreviato, di Massimo D'Azeglio, come fu chiamato il cavaliere d'Italia, un pittore, una persona, un nobile, affabile, libero, il quale, la frase è questa. Il primo bisogno d'Italia è che si formino italiani dotati di alti e forti caratteri. E, purtroppo, si va ogni giorno più verso il polo opposto. Sì, adesso va bene? Allora ricomincio perché ci vuole anche un po' di pathos. Sì, ricomincio perché ci vuole anche un po' di pathos a leggere un testo, non è una sequenza informatica. Il primo bisogno d'Italia è che si formino italiani dotati di alti e forti caratteri. E, purtroppo, si va ogni giorno più verso il polo opposto. Purtroppo si è fatta l'Italia, ma non si fanno gli italiani. Gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova e loro rimanere gli italiani vecchi di prima, con le dappocaggini e le miserie morali che furono abantico la loro rovina. pensano a riformare l'Italia e nessuno si accorge che, per riuscirci, bisogna prima che si riformino loro. In qualche modo, in quegli anni del risorgimento, ci sono state delle contingenze che i stessi protagonisti, in primo luoghi grandi, e poi anche alcuni storici, hanno definito fortunate. Fortunate, 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 nell'ambito dell'Europa, noi abbiamo avuto questa possibilità di usare in primo luogo l'aiuto della grande Francia, in secondo luogo dell'Inghilterra, in terzo luogo del Regno di Prussia. Grazie a questi aiuti fondamentali, alcuni uomini, svegli, vigili, coraggiosi, determinati, sono riusciti a inserirsi nel gioco europeo e a unificare l'Italia. Però questo è stato una contingenza, un incrocio di forze storiche. Allora, noi, almeno in maggioranza, siamo ancora in itinere, in viaggio. E un'idea è questa. Possiamo cercare, ciascuno in se stesso, nel suo ambito, di ispirarci a loro. Il titolo della mia conferenza è Carità di Patria, espressione che non s'usa più tanto, visto che, per esempio, i miei studenti ne hanno neanche sentito nominare. Chi ha una certa età come me, invece sì. Però con come, con che significato? Perché, vabbè, l'espressione antica è diventata famosa per l'uso che faceva Cicerone, parlando contro Catilina e contro Marco Antonio, cioè contro aspiranti tiranni. Combattere per amore della libertà della Repubblica contro aspiranti tiranni. Questa era la carità di Patria. Quando dice carità, qua siamo anche in un auditorio parrocchiale, pensa che sia una cosa di origine cristiana. No, origine pagana, eccetera. Così, in realtà. In pratica, poi noi però, io per esempio, chi è nella mia generazione, l'abbiamo usato in un significato assai diverso. No, assai diverso. E cioè, con il significato di, come dire, un po' come i panni sporchi si lavano in famiglia. Io dovrei dire delle cose vere ma sgradevoli, ma per carità di Patria, non le dico. È una specie di clausola giustificatoria per omettere una denuncia o per non far sorgere un conflitto. Strana, la storia delle parole. Ora, l'amore per la comunità degli italiani, che allora, tanti anni fa, era sentita da una piccolissima minoranza di questi noi italiani, questo popolo che abita la terra dove il sì suona. Non si dice ok o il, da, ja, yes, l'affermazione, ma si dice sì. Ma, al di là di una comunità linguistica, di tradizione, comunicazione vicina, facile, come dice Mazzini, che significa la nazione, la nazione significa la lingua, significa la facilità di comunicare con il prossimo. Al di là di questo, grandi disunioni di altro tipo. Grandi disunioni di altro tipo. Ora, questi pochissimi, che hanno sentito tanti anni fa, quell'amore per la comunità degli italiani, che tanti di noi non sentono oggi, dopo tanti anni, chi sono? Sono quei nomi che io stesso, che vi sto parlando, che insegno storia, però, la storia è un'oceano, no? Uno può parlare della guerra in Bermania, del generale Slim contro i giapponesi, o della rotazione triennale nei feudi della Francia del sud del dodicesimo secolo. La storia è un'oceano che nessuno può conoscere tutta. E dunque, saggia, questo, questa parte. Io, questo del risorgimento, penso non a caso, data la mia generazione di 52 anni, non ho approfondito. Ho approfondito in questa occasione, spinto da circostanze, in parte esterne come l'anniversario, in parte interne, e però sono consapevole che nella mia generazione la prevalenza di un certo tipo di cultura e di ideologia nell'ambito intellettuale, qua, italiano, che senza giri di parole, è d'impronta marxista, in primo luogo, non solamente, ma in primo luogo, ha depreciato, tacciandola di nazionalismo, mentre la cultura marxista era internazionalista, e tacciandola di retorica, mentre la cultura marxista si freggiava della settica scientificità, dell'arismo scientifico. È stata depreciata, a noi, è stata presentata in maniera depreciata la vicenda del risorgimento, almeno nei decenni 70 e 80, negli anni 90 è cominciato a cambiare qualcosa. E dunque questi autori, io li ho approcciati nei loro testi, nelle loro fonti, e non con qualcun altro che me ne parlava, di solito appunto in maniera con sufficienza. Io non ho mai letto le mie prigioni, le mie prigioni di Pellico, dei doveri degli uomini, sempre di Pellico, o dal quarto volturno di Giuseppe Cesare Abba, o le ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini, o la giovinezza di Francesco De Sanctis, o i tanti scritti che di avvenire ai giovani d'Italia, dei doveri dell'uomo da non confondere con quell'altro, e tanti altri di Giuseppe Mazzini. Io ho letto adesso, compresi gli scritti stranamente abbondanti del giovinetto morto a 21 anni difendendo la Repubblica Romana, Goffredo Mameli. E ho pensato di presentare, anche per i miei interessi, questa testimonianza ideale degli uomini del risorgimento da un punto di vista diverso, da quello prevalente, cioè non nel punto di vista pubblico, ma quello privato, non quello militare o diplomatico, no, tantomeno quello economico, ma quello dell'intimo delle persone che si sono mosse pensando di rischiare tanto e come veniva detto e fatto, perché poi detto e fatto, anche la vita. e dunque entrare dentro quella parte della psicologia, la psicologia è un mare magnum, dai sogni, agli atti mancati, alle tendenze, desideri di vario tipo, le angosce, ma c'è un aspetto della psicologia, dell'intimo della persona che si collega agli ideali etici. Questa che viene chiamata dalla fine del XIX secolo, viene chiamata spiritualità, una parola che è entrata in uso sia nella lingua francese che nella lingua italiana, però la spiritualità indica quella parte della psicologia umana collegata agli ideali etici. Ecco, gli uomini qua, nella dispensa che avete, vabbè, cosa viene detto? Viene detto come dire, un po' come nello stradario, no, le lapidi dello stradario cittadino italiano, no? Il nome, data di nascita, data di morte, e così l'aggettivo o gli aggettivi qualificanti e come dire, adesso non è anche per economia di tempi e di anche attenzione e di fluido emotivo anche nella mia comunicazione, non è che mi metto a fare il maestrino a dire ABCD, da un po' per il presupposto di conoscenza in chi mi ascolta e un po' anche magari domande, per dire un po' la domanda, no? Ora, dei vari temi che vedete anche elencati nella dispensa non li tratterò tutti per questioni di tempi perché una comunicazione così che non è un corso ma è una singola conferenza non può essere più lunga di tanto, cioè attenzione di tutti, no? Ha dei limiti, eccetera. Ora, però, poi ci saranno degli atti allora l'aspetto più esteso sarà in un momento successivo l'aspetto più completo. Ho sentito? Speriamo. Allora, parto da quella punto che lì ho messo, i vizi degli italiani. Razzini esortava a affratellarsi per l'affetto della patria. Ma per poterlo fare e per affratellarci dobbiamo combattere due vizi nostri propri di noi italiani. il macchiavellismo e il materialismo. Macchiavellismo significa far di tutto, fare il furbo credendo di essere il più furbo e questo di tutto di solito non è buono ma al contrario credendo di essere il più furbo in maniera individualistica per i propri fini individualistici. materialismo credere che adesso io cerco anche perché questo è il mio intento come dalla frase dell'incipit di attualizzare materialismo significa dare più peso alle cose materiali che hanno io non ho fatto né una filosofia né una mia condotta individuale di tipo ascetico né un disprezzo affatto le cose materiali non disprezzo non so i piaceri materiali le ricchezze materiali perché l'è ma che non siano il sommo bene che non sia il sommo bene e invece ecco lui individuava in un altro passo dei doveri dell'uomo la falsa scienza le dottrine materialistiche che derivavano dal diciottesimo secolo da una parte dell'illuminismo che facevano una propaganda solo diritti solo diritti solo diritti e niente dovere capirete che ogni vostro diritto può solo essere frutto di un dovere compiuto che conosce non so tanti ambiti della vita italiana di oggi per esempio quello sindacale mi si vede chiaro questo ambito questi diritti che stanno morendo velocemente come non so erba non innaffiata al sole d'agosto non sono scontati non sono un dato naturale sono frutto di battaglie di doveri compiuti se questi doveri non vengono di nuovo rinnovellati le cose muoiono rapidamente ancora Giuseppe Mazzini senza uomini virtuosi l'Italia sarà del primo padrone che vorrà tiraneggiarla senza stimolo di onore e di gloria senza religione di verità senza coraggio insisterò qualche volta in queste mie parole stasera sulla parola coraggio che già questi uomini vedrete anche altre citazioni e i loro contemporanei esteri tipo inglesi per esempio notavano essere un difetto degli italiani e io ti cerco come diceva Benedetto Croce di per sì che il passato il documento esterno del passato sia un sussidio per comprenderli il presente perché solo qua trovo l'onore dello studio del passato e non in un'erudizione così oggi anche oggi io penso sono io che vi parlo vi dico quello che penso penso che non si può accusare gli italiani di di avere il vizio o la difetto di mancare di laboriosità quanti italiani lavorano oggi sia al nord e anche al sud nonostante i luoghi comuni lavorano dal mattino alla sera magari senza contratto magari in nero con straordinari obbligatori obbligatori veramente sotto ricatto eccetera e anche all'estero sappiamo non si può accusare di lazzaronaggio di mancanza di laboriosità e ne ha a dire neanche ma di mancanza di istruzione di mancanza di cultura per il nostro sistema per questo patrimonio culturale unico e superiore a tutti gli altri del mondo in cui siamo immersi no non di mancanza di istruzione di cultura non di mancanza di laboriosità no ah di mancanza di coraggio sì nei vari ambiti della vita che sono diversi e non sono solo la battaglia di Calatafini Gino Capponi cattolico liberale toscano dell'inizio del XIX secolo il difetto degli italiani non è nella cultura ma nella debolezza del carattere Massimo D'Azeglio l'Italia è l'antica terra del dubbio il dubbio è un gran scappafatica io direi quasi il vero padre del dolce far niente non è l'ingegno sottile l'esprit però quel che forma le nazioni bensì sono gli austeri e fermi carattere Francesco De Santis il vero male italiano è l'indifferenza e l'oscurarsi del senso morale la cultura invece di riformare la mentalità popolare si dedicò alla erudizione e ai piaceri estetici l'indifferenza religiosa lascia fare il papa ci pensa lui e quella politica non è affar mio andarono a braccetto ancora Massimo D'Azeglio su un altro vizio legato al macchiavellismo quello del personalismo del personalismo cioè è giusto avere il desiderio di essere riconosciuti nel proprio contributo personale è una cosa giusta naturale etica direi ma che non sia il sommo bene che non sia la cosa che prevalga prevalga e metta in secondo piano e cancelli il bene comune diceva Massimo D'Azeglio meno partiti ci sono e meglio si cammina beati i paesi dove non ve ne sono che due uno del presente il governo l'altro dell'avvenire l'opposizione un tale stato di cose è segno della robusta salute di una nazione è segno che in essa le questioni di vera utilità pubblica soffocano le questioni di utilità privata di persone di sette adesso aggiungo io non sono più le parole di azilio di correnti di camarie di mafie di amici degli amici di scissioni perché parole non parole ma il perché è perché io voglio comandare io voglio essere nel piccolo anche nel minimo due partiti quello del governo presente l'opposizione quello dell'avvenire beh guardiamo i partiti italiani anche la questione del piacere il piacere io lo ripeto io chi mi conosce da vicino sa però la maggior parte di voi no io non ho nessuna filosofia né condotta personale contro il piacere di tipo ascettico eccetera assolutamente però dipende che ruolo abbia il piacere nell'economia della vita Ippolito Nievo che era un uno poi è stato è stato un italiano però ha partecipato all'impresa di mille però i suoi antenati la sua educazione è stata nella Repubblica di San Marco la sua grande romanzo che io vi consiglio eh io non l'avevo letto prima di pochi mesi fa vi consiglio un bellissimo romanzo si chiama Confessioni di un italiano era un grande perché è morto a 30 anni pensate 31-61 è morto a 30 anni nel naufragio di questo piroscopo l'Ercole no forse anche doloso anzi la maggior parte degli storici ritiene che sia doloso questo naufragio uno degli iniziali Mattei degli iniziali stragismi è già cominciato nel 61 con Ippolito Nievo che portava i conti amministrativi dell'impresa dei mille in Piemonte beh questo Ippolito Nievo che affonda appunto le sue origini familiari nella Repubblica di San Marco non ha nessuna vezzosa nostalgia di Laos Temporisacti ah com'era bella questa Repubblica di San Marco serenissima id'oggi la dominante no dominante padrone Adriatico no ricorda il 18 febbraio del 1788 moriva il doge Paolo Reynier ma la sua morte non si pubblicò fino al 2 di marzo morto il 18 di febbraio perché il pubblico lutto non interrompesse i trepudi della settimana grassa vergognosa frivolezza dinotante che nessun amore nessuna fede congiungevano i sudditi al principe i figlioli al padre viva e muoia a suo grado purché non turbi l'allegria della mascherata i divertimenti del ridotto cotali erano i sentimenti del popolo e della nobiltà che si rifaceva popolo solo per godere con minor spese e con più sicurezza pubblico di San Marco abbastanza autocritico eh abbastanza autocritico cambiamo Statarello e passiamo al regno delle due Sicilie il regno delle due Sicilie Luigi Settembrini Napoli ricorda la giovinezza in questo mondo dove mia zia mi ripeteva che rimanessi e ci trovassi il buono io non potevo però più stare perché ero noiato e indispettito o questo che tu ci mostri non era poi tutto il mondo ma uno spicchio di esso e forse non il più bello in una città si grande dovevano esserci altre brigate dove c'era da prendere qualcosa forse c'erano ma io non lo sapevo queste altre poche simili a questa io vidi allora e ve l'ho dipinta come la vidi uomini non tristi tristi in italiano loro significa cattivi non cattivi ma inetti donne non brutte ma insipide giovani frollati e ignoranti che non parlavano d'altro che di femmine di vestiti di impieghi nobili goffi come servitori qualche magistrato che sapeva più di gastronomia che di leggi e non parlare non parlare mai di cose pubbliche né di arti né di scienze né di lettere ma pettigolezzi maldicenze gossip divozioni divozioni questa era la commedia nella quale io dovevo entrare e farvi la mia parte però mi venne meno la pazienza mi vennero meno anche i vestiti e non vandai più il piacere non è solo di questo tipo c'è anche un piacere buono sentite sentite Silvio Pellico nel suo libro dei doveri degli uomini ama la vita ma amala non per volgare i piaceri e per misere ambizioni amala per ciò che ha di importante per ciò che ha di grande amala perché è palestra del merito necessaria a noi amala a onta dei suoi dolori anzi anche per i suoi dolori giacché sono essi che la nobilitano essi che fanno germogliare crescere e fecondare nello spirito dell'uomo i generosi pensieri questa vita cui tanta stima tu devi si memore esserti data per breve tempo siamo memori di questo non ti si parla in soverchi divertimenti concedi soltanto all'allegria ciò che vuolsi per la tua salute e per il conforto altrui o piuttosto l'allegria sia da te posta in principal guisa nell'operare degnamente cioè nel servire con magnanima fratellanza ai tuoi simili nel servire con filiale amore ed obbedienza adesso un punto precisamente carità di patria giuseppe mazzini trattando delle ragioni che tornavano in nulla che volgevano in nulla i tentativi di libertà in italia dei vizi che contrassegnarono contrastarono al concetto rigeneratore di farsi via via gli ostacoli noi ora siamo a un bivio tremendo bivio o noi parliamo alte parole libere e franche parliamo con l'occhio all'italia la mano la mano sul cuore e la mente al futuro parliamo come detta la carità della patria senza mente ad uomini o pregiudizi snudando l'anima agli oppressori ai vili agli inetti flagellando le colpe e gli errori e gli errori dovunque si manifestino e un grido allora si leva dagli uomini del passato ai giovani che si inoltrano nella carriera a quei giovani ignoti alle genti senza prestigio di fama senza potenza di clientela soli con Dio la coscienza di una missione o Bidio noi rineghiamo ispirazione studi ed affetti per un'illusione di universale concordia e gli italiani allora indurano nell'abitudine degli errori e gli elementi non mutano i tentativi insistono sulla stessa tendenza le generazioni agitano ma non frangono le loro catene e lo straniero ci rampogna inerti nel progresso comune d'Europa e si curva sulle sopolture dei nostri grandi ed esclama ecco la polvere d'Italia allora oggi amare la patria non significa dire un attimino tutto bene buona serata vogliamoci bene ma sì certo siamo d'accordo ma è solo una serie di litotti al cubo significa correggerni i mali Goffredo Mameli l'Europa direbbe gli italiani non sono che grandi e impotenti fanciulli a cui si addice la sferza del pedagogo tornino un'altra volta sotto la tutela dell'Austria altra sorte essi non meritano questo purtroppo direbbero i popoli tutti che ora vi stanno osservando con grande aspettativa siamo nel 1849 l'anno in cui non morì a 21 anni e i fratelli conculcati in vano sperando nell'aiuto dei fratelli ma le direbbero un vano simulacro di libertà reso impotente per difetto di patria carità di energia di opere potreste voi sopportare l'idea di essere fatti ludibrio del mondo dell'Eral Tribune del Los Angeles Times del New York Times del Wall Street Journal dell'Economist del Le Monde del Paese delle Figaro di Dai Zaitung di El Paese di The Times di Londra sopportereste voi? qui l'ho aggiunto io queste parole non so se avete capito non sono di Goffredo Mamei l'unione l'amore sono quelle parole della terza strofa dell'inno di Goffredo Mamei l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore uniamoci amiamoci già qualcuno si ricorda sui studi liceali il coro di Carmagnola dalla tragedia di Manzoni i fratelli hanno ucciso i fratelli è un orrore vedere la gioia dei fratelli italiani che uccidono triunfando i fratelli italiani Goffredo Mamei ancora per poter coltivare rinvigorire la vita non è necessario che questo l'amore per la nostra società adesso mi sono fermato l'amore per la nostra società questa parola se il relatore è di Goffredo Mamei l'autore del nostro inno giovinetto eroico che a Villa Glory fu morì con la palla di fucile eccetera l'amore per la nostra società sembrerebbe qualcosa di negativo almeno così mi risulta nella mia esperienza di vita io ho una vita sola vi dico la mia l'amore per la nostra società la gente quando parla in società manifesta di gran lunga più spesso non l'amore le parole che esprime non sono di amore per la nostra società ma di disprezzo di lamentela di continua critica di continuo fastidio però la stessa società non so se sia mai stato di moda la parola popolo sì mi ricordo perché nell'arco della mia vita lo è stato la parola società non mi ricordo continuo con Mamei e in ciò perdonati che io il creda io in questo amore per la nostra società non mi credo a nieno secondo perché questa nostra società parmi forse è l'unico modo nel quale per ora possiamo servire ai più sacri principi non si servono da soli si servono assieme è un'illusione tra il narcisistico e lo stupido pensare che si servano da soli il mio commento però che limitandomi a riguardare il principio sotto un aspetto parziale l'arma più tremenda di cui possono usare contro l'Italia nostra i suoi nemici è l'impedire in essa ogni maniera di affratellamento oppressa la stampa o monopolizzata proibite le società cioè le associazioni le anime anche più vigorose e che rimangono con i ricordi degli anni 70 che so io delle proprie mitologie tra appunto il leggendario e il parziale e l'omissivo no si steriliscono le anime dei singoli se non si incontrano si steriliscono e poi fanno le rate per la SUV alla cosa del centro commerciale fanno le collezioni di macchinine gli evergreen eccetera 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 si steriliscono nei sepolcrali confini dell'individualismo come l'albero a cui manchi l'aria e se questo è il secreto della loro forza tutto ciò che è contrario è nostro dovere noi crederemo che l'obolo offerto ci sia stato largamente retribuito se penseremo oltre ciò alla dolcezza di esserci conosciuti alla dolcezza di esserci conosciuti non al fastidio io vado là in quella chiesa perché non c'è gente in quella spiaggia perché non c'è gente non vado alla multisala perché c'è troppa gente ah no non posso non mi faccio trovare non rispondo ah vedo ecco no adesso si può vedere no? per quanto a che che ricevi alla dolcezza di esserci conosciuti e dell'amarci solo nell'unità è l'amore e nell'amore c'è la vita Giuseppe Cesare Abba Garibaldino dei Mille veniva da un piccolo paesino della provincia di Savona sull'Appennino Ligure però poi è stato 26 anni a Brescia dove ha fatto l'insegnante e il preside di scuola superiore ed è morto a Brescia 1910 cittadino onorario di Brescia tra i mille venera fino uno e lo narrava che aveva avuto la spinta a quel passo cioè di andare con i mille da un fatto da nulla ma che al suo cuore aveva potuto più che la scuola e i libri un giorno di luglio dell'anno avanti stando egli in Brescia alla porta di uno degli ospedali Zeppi Ancora dei feriti di Solferino e San Martino tale di Solferino una delle più sanguinose del XIX secolo in occasione di essa sapete che è stata fondata la Croce Rossa Internazionale stando vicino a questi ospedali Zeppi Ancora dei feriti aveva veduto fermarsi un carro pieno di casse di arance e di bende venivano dalle donne di Palermo oh santa carità di Patria dunque in quella terra lontana si pensava a chi pativa per tutti oggi oggi non si dice più felice Natale ti auguro felicità si dice questa clausola si dice sereno Natale sereno anno io non aspiro alla felicità però almeno alla serenità cos'è poi cos'è poi questa serenità in greco si diceva usava questa parola atarassia mancanza di turbamenti la serenità cos'è? la mancanza di turbamenti anche qua io non voglio disprezzare la mancanza di turbamenti mica desidero che la mia giornata la mia settimana sia strapiena di turbamenti il punto è anche qua se è il sommo bene o no la mancanza di turbamenti perché se è il sommo allora sacrificherò adesso tutte le altre cose se è il sommo la serenità cioè la mancanza di turbamenti un'altra citazione da Giuseppe Cesare Abba qua da Cronica Memoria racconta del suo paese natale qua sulla Penino Ligure che faceva parte del Regno di Sardegna quando venne l'almata napoleonica nel 1796 la campagna d'Italia di Napoleone da una parte e vabbè e i sudditi piemontesi dei Savoia si difesero o qualcuno fuggì qualcuno fecero ignori ma qualcuno si difese 1796 di quest'animo dove essere il cavalier del carretto quando circondato da soldati suoi paesani quasi nel bel mezzo delle langhe aspettò l'assalto dei francesi e la morte vi era venuto dalla valle del Tanaro pieno di maestri presentimenti un giorno mentre marciavano sotto la pioggia un sergente molto amato da lui molle sino alla pelle inzaccherato stanco morto aveva osato dirgli che vita le tocca signor cavaliere lei che poteva starsene tranquillo nel suo palazzo di Torino con i piedi al fuoco il cavaliere si era mosso come a una puntura e il sergente aveva intimato di tacere ma poi battendoli sulla spalla aveva giunto dolcemente dimmi tu e io chi c'ha più roba al sole o lei senza dubbio io sono un poveretto ebbene avrei potuto starmene al fuoco nel mio palazzo eppure lì via mia moglie e via il mio figliuolo senti lasciamo andare questi discorsi e quando una palla mi avrà ammazzato allora dirai ecco il cavaliere è tranquillo sereno senza turbamento gli si è smosciata sta inquietudine del piffero però quando è morto torniamo nel regno delle due Sicilie a 25 anni Giuseppe Ricciardi napoletano nel 1832 scrive ero nobile e ricco e il volgo mi invidiava ricco anche di amici non avevo io subito direttamente sopprusi che giorni tranquilli se mi fossi contentato del materiale e non avessi guardato la misera patria straziata e mi dissi saresti vile se con queste fortune ti addormentassi senza badare i tuoi sventurati fratelli sorgi dunque o Giuseppe e fai il sacrificio se sacrificio si può chiamare spendere tutto per redimere il proprio paese Camillo di Cavour che anche qua le cose non sono indifferenti le cose non sono in tutte le maniere o nel migliore dei mondi possibili le cose sono come sono a me e chissà quanti come me questo Cavour è stato presentato come un signore grasso calcolatore il tessitore freddo che beveva un po' di barolo buono una specie di essere anaffettivo tranquillo col barolo la pancione a 17 anni sto leggendo dei diari postumi di Camillo che anche Camillo non è stato sempre col pancione e con barolo ha avuto anche 17 anni cosa scrive? a 17 anni io non so cosa diventerò vivo in mezzo ad elementi disparati sono in contrasto con ciò che mi circonda se mi lasciassi andare se mi lasciassi andare alla apatia il minimo passo salvo scusate il minimo passo falso mi rovinerebbe la mia vita l'energia dell'anima è indispensabile devo lottare con tutte le forze contro ciò che potrebbe piegare la forza del mio carattere della quale ho ciascun giorno bisogno poca serenità passano 5 anni a 23 anni Cavour mi trovo con un passato vuoto di ricordi interessanti e un futuro senza scopo senza scopo contro il Cavour senza speranza senza desiderio ho varie persone che mi vogliono bene mia madre mio padre vari amici ma io non sono necessario alla felicità di nessuno di loro l'avvenire mi prospetta un aggravamento dei fastidi della vita come sarò a 30 anni spero di non essere non esserci più ah se non avessi ancora dubbi sulla moralità del suicidio mi ucciderei ora prego però Dio di mandarmi un colpo al cuore così non darò cattivo esempio agli altri mi si ricorderà però poi solo per dire ai nipotini dei pericoli di un'intelligenza precoce e dei pericoli del troppo amore per l'indipendenza oh se avessi un qualcosa che mi dessi un flusso al petto e mi uccidesse non molta carassia non molta serenità e a posteriori possiamo dire che c'era qualcuno per cui invece lui era veramente necessario qualcuno per la cui felicità lui Camillo era veramente necessario dispensato Italia così è in realtà così la realtà è stata questa affetti primo affetto sono la famiglia il nido il cuore la nascita l'educazione però ci sono come ci sono vari tipi di vissuto religioso di chiesa ci sono vari tipi di politica ci sono vari tipi di professionalità nei lavori nelle arti ci sono vari tipi di famiglie oppure cadiamo nel mulino bianco nella retorica ma non ci interessa andiamo a guardare la realtà la realtà dai scrive Silvio Pellico chiama igreja donna non perde il tempo a corteggiarla servilmente a pascerla ad adulazioni di vani sospiri ella ciò non soffrirebbe ella vergognerebbe si di avere per amante un ozioso uno sdolcinato ella non sa apprezzare se non l'amicizia dell'uomo schietto dignitoso meno sollecito di parlare d'amore che di piacerle con lodevoli principi lodevoli fatti la donna che tollera l'uomo puerilmente schiavo ai suoi piedi piegata a soffrire con bassezza capricci di lei non occupato d'altro che d'affettare eleganze e amorose smorfie ben da di vedere da avere poca elevata idea di lui e anche di Samides e colui che in tal vita si compiaccia colui che ama senza nobile scopo senza lo scopo di diventare migliore lui colui supa miseramente ingegno e cuore Giuseppe Mazzini oggi generalmente parlando non si ama l'amore la più santa cosa che Dio aveva dato all'uomo come promessa di sviluppo della vita si è fatto sotto le unghie d'erpia del secolo profanatore una lordura di sensi un bisogno febbrile la famiglia simbolo del modo con che si compie nell'universo l'operazione di Dio e germe della società si è convertita in una negazione di vocazioni in negazione di ogni dovere sociale tengo famiglia e allora non faccio il mio dovere il maschio e la femmina hanno cancellato l'uomo e la donna le madri d'Italia schiavi anch'esse di una tristissima educazione e nulla nell'ordinamento sociale predicano trepidanti i figli la sottomissione al potente qualunque lì sia solo d'oggi solo di allora scusate questa roba qua sottomissione al potente chiunque lì sia i padri che sanno come allimitare di ogni famiglia vegli una spia li ammaestrano alla diffidenza e all'isolamento e le fanciulle innamorate balzano di gioia quando alle loro istanze so dono rispondere dall'amato io vivrò per te sola poi damanti beate di frenesie senza nome riescono per lo più infelicissime mogli perché io ho sempre veduto mariti pessimi i tipi di amici i pessimi tra i cittadini cioè nessun impulso verso un amore più vasto anche in quello più particolare più prossimo marcio marcisce innamarcio chi pensa ma se ogni amica rispondesse al frenetico e forse ipocrita amante tu non devi vivere per me ma devi gioire in me e in me confortarti nei tuoi patimenti noi dobbiamo fare delle nostre due vite una sola vita più potente di intelletto ed amore con un sacrificio continuo al grande al bello al divino una sola continua aspirazione un solo moto verso l'eterna verità se i padri definissero la vita i figli non come la ricerca di un piacere qua giù bensì come preparazione per mezzo dei doveri a uno stadio di sviluppo superiore se le madri che pur si dicono cristiane meditassero più spesso e ripetessero ai nati da loro tutto quel libro dei maccabei sapete il libro dei maccabei nell'antico testamento in cui la madre esorta i figli non a a nascondersi a leccare a servire a clientele a sottomissioni a raccomandazioni no ma a dare la vita per un ideale libro di maccabei che pare dettato per gli italiani adempirebbero tutti meglio che oggi non fanno i debiti dell'amore e l'Italia non avrebbe da piangere ogni tanto i migliori tra i suoi cittadini spenti ad uno ad uno isolatamente per cambiare anche gli affetti familiari una virtù è quella della pietas pietas uso la parola latina non significa pietà come oggi usiamo con l'italiano oggi pietà nella parola italiana significa compassione ma pietas non significa compassione significa una sorta di rispetto di venerazione e di ispirazione affettiva che le generazioni successive prendono dai migliori esempi delle generazioni precedenti in primo luogo dai buoni esempi dei propri genitori ma non solo di loro anche dei grandi uomini del passato dai grandi antenati dei grandi uomini pietas Ugo Foscolo l'aveva cercato di comunicare nella sua prolusione a Pavia l'Università di Pavia nel 1808 che fu subito questo soccorso italiani vi esorto le storie gli esempi belli dei grandi nostri antenati sono qualcosa che ci attira e che sentiamo un dovere ricordare agli altri fu subito censurato fu interrotto subito questo corso di Fosco Pellico miriamo nell'umanità ammiriamo nell'umanità coloro che attestando in semenesimi la morale grandezza di essa ci indicano ciò che dobbiamo aspirare noi di divenire noi non potremmo agguagliarci in fama a questi grandi ma non è questo che importa sempre possiamo allora agguagliarci in interno pregio cioè nella cultura dei nobili sentimenti ogni volta che non siamo degli aborti o degli imbecilli ogni volta che la nostra vita dotata di intelligenza si estenda la fortuna di estendersi un po' al di là dell'infanzia quando siamo tentati di disprezzare l'umanità quando siamo tentati di disprezzare io quando noi siamo tentati di disprezzare l'umanità vedendo con i nostri occhi o leggendo nella storia molte sue turpitudini storie dell'umanità poniamo mente a quei venerandi mortali che pure nella storia splendono ed ecco dunque che si può fondare non in maniera atarattica di serenità inerte di più intenzioni che lastricano la via dell'inferno ma attraverso l'autocritica e anche la critica attraverso una purificazione anche negli affetti più intimi una nuova famiglia Mazzini racconta di Nicola Ricciotti uno dei compagni che furono accanto ad Emilio e da Tiglio Bandiera nel 1844 quando andarono nelle Calabrie e furono uccisi tutti qualcuno sul campo qualcuno impiccato dopo questo Nicola Ricciotti scrisse annunciando la sua determinazione ai figli queste righe seguenti Mazzini tra le pochissime che a me rimangono di lui eccomi giunto a uno dei momenti più tristi della mia vita e forse al più decisivo per me mille privazioni mi attendono infiniti pericoli circondano il sentiero che devo scorrere la morte stessa è forse là per colpirmi l'amore che io ebbi per voi che per lontananza non si è già mai diminuito il dovere di padre di buon cittadino non mi permettono di dare esecuzione alla mia decisione senza ricordarmi di voi e senza darvi alcuni precetti che io spero vorrete adempiere se mi riservata una sorte crudele se dovessi mai essere rapito al vostro affetto conservate memoria di me e la mia sventura non vi sgomenti e sia questo il mio scritto un documento della mia tenerezza per voi tengo famiglia? beh, tengo la famiglia Nicola e ciò poi non abbiate paura perché vedo che giustamente naturalmente le nostre energie no? diciamo così continuano la parabola taglio eh adesso taglio adesso non abbiamo cominciato alle nove e mezzo adesso è quasi un'ora alle 22-28 perciò tutto il punto sulla magnanimità via taglio vieni la megalopsichia la grande anima pensare che la grande anima non è non è il narcisismo è il contrario vabbè non c'è tempo fedeltà alla verità sono così degli esempi di virtù questa della magnanimità cioè essere umili ma non avere paura del giudizio degli altri perché? perché uno ha fiducia in se stesso questa è la grande anima la grande anima ha fiducia regge sta salda sta eretta perché? perché ha un'autostima l'autostima non si sorregge con i puntelli del narcisismo perché i puntelli del narcisismo sono i puntelli che reggono qualcosa che non si regge da sé non si regge da sé perché non si può reggere perché è vuota è flossa è vuota è marcia e non c'è niente non è il narcisismo non c'è bisogno delle lodi altrui anche qua senza scetismo tutti noi abbiamo bisogno di riconoscimento altrui ma a che prezzo? a prezzo della falsità? a prezzo della slealtà nei concorsi e nelle gare sociali in genere? slealtà a prezzo di rubare non si ruba solo i soldi ma ruba anche i posti si rubano anche i posti o no? in quest'Italia c'è il cicciolo tutti abbiamo bisogno di essere riconosciuti io per primo chiunque ma non a qualunque costo non a prezzo di qualsiasi altro bene sacrificato no? non a prezzo della falsità della millanteria parola in lingua italiana so che non si usa molto però esistono i millantatori si dica millantare significa vendere merce che non si ha di più salto punto fedeltà alla verità salto anche il punto su sull'amicizia e la fratellanza salto il punto sull'educazione fu così importante il problema dell'educazione per Mazzini per Silvio Pellico per De Santis magari su De Santis facendo io molto breve taglio la citazione da Ippolito Nievo in questo bel romanzo che vi raccomando è confessione di un italiano lui una gran parte di esso e questa è una cosa nuova che è anche nuova rispetto ai promessi sposi di Manzoni o altri romanzi precedenti e successivi da grande spazio a racconti autobiografici dell'infanzia una cosa che non era del diciannovesimo secolo è venita dopo ma il ventesimo a lui e dice nell'indole del fanciulletto starà chiuso il compendio in compendio in riassunto il tema della vita intera onde io non mi stancherò mai di ripetere o anime reggetrici dei popoli o menti fiduciose nel futuro o cuori accesi d'amore di fede e di speranza volgetevi all'indocenza abbiate cura dei fanciulli lì stanno la fede l'umanità la patria scrive Pelli quando era rinchiuso nei piombi di Venezia prima di andare allo Spielberg di un bambino sordo e cieco che gli era venuto figlio probabilmente di qualche carceriere lì vicino alla sua cacella e cercava di insegnare a comunicare ebbi molta inclinazione per i fanciulli e l'uffizio di educatore mi parve sublime e siccome appunto sono insegnante voglio citare questa citazione di Francesco De Santis sapete Francesco De Santis è lì il non superato il non superato critico della letteratura italiana cioè la sua storia della letteratura italiana è la migliore che c'è anche ora questo irpino ma napoletano d'adozione Francesco De Santis aveva fatto una scuola a Napoli a quel tempo non c'erano scuole di stato nel regno delle due Sicilie sono solo scuole private io avevo per quei giovani un culto sentivo con desiderio le loro osservazioni i loro pareri studiavo le loro impressioni godevo tanto vedermi l'intorno con quei gesti vivaci con quelle facce soddisfatte e si guardavano in me il loro amico il loro coetaneo e mi amavano perché sentivano di essere amati io avevo il loro entusiasmo giovanile i loro ideali e se in loro c'era una parte del mio cervello da loro veniva a me una fresca ora di vita e di ispirazione senza di loro mi sentivo nel buio essi erano lo sprone che mi teneva vivo l'intelletto e lo riempiva di luce patria libertà umanità tutti i più alti ideali che mi brillavano innanzi si compendiavano in quest'uno piacere alla scuola e lì erano la mia espansione lì era la mia felicità quante volte ancora oggi rimemoro quei giorni e dico come ero felice allora ah quanto poco questi discorsi si sentono nelle ore buche nelle sale dei professori coraggio bellico coraggio sempre senza questa condizione non si può essere liberi perché la libertà non è regalata la libertà è conquistata coraggio per vincere il tuo egoismo e diventare benefico ci vuole anche coraggio per vincere la tua pigrizia e per seguire in tutti gli studi onorevoli ci vuole anche coraggio per proteggere in ogni incontro il tuo simile e ci vuole anche coraggio attualizziamo questo proprio adesso per noi italiani di adesso ci vuole anche coraggio per resistere al male esempio e all'ingiusta decisione garibaldi ho osservato che aveva detto una frase quando sconfitto dai francesi di luigi napoleone presidente repubblica francese che aiutava il papa a ritornare a roma sconfitto militarmente però dopo un'eroica resistenza quella in cui morì appunto goffredo mameli garibaldi disse una frase che io sono sicuro anche per la grande stima che il mondo anglosassone ha per garibaldi e per mazzini un culto più vivo che tra noi i studiosi sapete che il più grande studioso di mazzini è dennis max smith un anzianissimo avrà 95 anni un sore di oxford beh garibaldi disse questa frase che ispirò secondo me perché io conosco bene la figura perché l'amiro molto di Winston Churchill ispirò Churchill al momento decisivo the finest hour della battaglia di Inghilterra dopo che la Francia era crollata l'Europa rimane al Reich alleato dell'Unione Sovietica e sola rimaneva a difendere la libertà l'Inghilterra e questa frase però è di Garibaldi e fu ripetuta quasi uguale da Churchill nel 1940 io esco da Roma chi vuol continuare la guerra contro lo straniero venga con me io non offro paga né quartiere né provisioni offro fame sete marce forzate battaglie e morte sulla religiosità molto veloce che si dice che sono massoni sono irreligiosi tutt'altro leggete le pagine di questi uomini le pagine di Mameli di Pellico di Mazzini al contrario la religione certo deve essere purificata come sempre ecclesia sempre reformando ecclesia simul sancta ac peccatric certo sempre ma questo sin dall'inizio sin dal nucleo apostolico sempre sempre c'è un e pianse amaramente dopo averlo tradito rinnegato tre volte pianse amaramente sempre questa è la vita non le balle questa è la vita sempre mica che nella chiesa non c'è pss pss balle cominciare dalla sua origine stretta è così balle retro a satana viene detto al primo papa o tentatore da Gesù Cristo non da un ateo gay comunista da Gesù Cristo ora già Manzoni il nostro maestro cattolico liberale Alessandro Manzoni non era leninista non era bolsevico ma lui ci presenta una vicenda della religione chiaramente giudicata ci presenta fra Cristoforo ci presenta il cammino della conversione verso l'ideale di Cristo nella sofferenza ma anche nella risurrezione fra Cristoforo ricordate quel giovane nobilotto che combatteva non per la SUV la mia SUV va davanti la mia SUV va davanti va dietro va davanti la dritta è mia e ammazzava le persone come si ammazzano oggi con le SUV non con lo stocco spagnolesco e questa è la religione di fra Cristoforo quella che guida gli umili è stessa umile nelle vicende drammatiche raccontate dal romanzo ma poi c'è la religione di Gertrude ricordiamoci e escono sempre dalla penna dello stesso non è che la religione di Cristoforo esce dalla penna di un beghino bigotto è la religione di Gertrude la monaca di Monza e di suo padre e della sua famiglia ducale non è che escono dalla penna di Troschi o di un allievo di Lenin escono sempre dalla penna del conte conte Alessandro Manzoni nipote del marchese Cesare Beccaria mi risulta e la religione di Gertrude è una religione giudicata molto da Alessandro Manzoni sottomissione falsità uccisione degli stessi ideali del Vangelo in nome della religione Mazzini racconta il martirio dei fratelli Bandiera Attilio e Emilio Bandiera erano figli di un ammiraglio della marina asburgica e avevano come rinnegato gli ideali del padre che serviva quello che per loro invece era il nemico principale dell'Italia l'Austria loro padre era ammiraglio della marina imperial regia marina asburgica la mattina del giorno finale fatale furono trovati dormendo si abbigliarono con somma cura per quanto potevano con eleganza come se sapparecchiassero a un atto solenne e religioso un prete venne per confessarli ma essi lo respinsero dolcemente dicendoli che essi avendo praticato la legge del Vangelo e cercando di propagandarla anche a prezzo del loro sangue tra i redenti da Cristo speravano di essere raccomandati a Dio meglio dalle proprie opere che dalle sue parole e lo esortavano a serbarle esse parole per predicare ai loro oppressi fratelli in Gesù la religione della libertà e della eguaglianza salviarono col volto sereno e ragionando tra di loro al luogo della esecuzione giunti e apprestate le armi dei soldati pregarono che si risparmiasse loro la testa fatta immagini di Dio guardarono ai pochi muti ma commossi circostanti gridarono viva l'Italia caddero morti religiosità I think what do you think ecco sto finendo anzi questa è la mia conclusione quale carità di patria per gli italiani di oggi io vorrei così guardare un po' quello che mi risulta della mia vita perché ce n'ho una sola non so quante ne avete voi io ce n'ho una sola e in questa mia in quest'arco di questi anni qua mi risulta che ci sono dei fraintendimenti dei travisamenti di quello che può essere per me per voi per noi l'ideale dell'amore per la comunità in cui tutti noi fin dalla nascita e ancora adesso viviamo direi uno è il fraintendimento di quello che lungo la mia vita ho visto essere la cosiddetta sinistra la sinistra in Italia non è i liberal americani non sono i progressisti liberal puritan americani no non sono neanche i laboristi o i fabiani la filantropia di tradizione inglese no in Italia sinistra significa marxista significa partiti d'origine filosofica marxista marxista significa socialisti comunisti questa è la sinistra italiana socialisti e poi il loro figlio la loro costola i comunisti questa è la realtà non solo la realtà tardo-ottocentesca e primo-novecentesca ma anche la realtà che io stesso ho vissuto io e tutta una vita che mi spupazzo i sessantottini tutta una vita ancora adesso nelle catede universitarie negli assessorati alla cultura nelle scrani del parlamento ancora adesso è tutta la mia vita che mi spupazzo i sessantottini cosa sono i sessantottini? sono neo-marxisti non sono i marxisti del diciannovesimo secolo e neanche quelli di Gramsci sono neo neo ormai visto che tutta la mia vita è un poco meno neo quando sono passati al sessantotto qualche decennio vabbè questa è la sinistra io direi userei per tante cose buone ha fatto la sinistra adesso c'è un attimo di verbolemica poi la lascerò però la replicherò per la destra la verbolemica qui uso questa frase di Silvio Pelli tutti gli affetti che stringono gli uomini tra di loro e li portano le virtù sono nobili il cinico che ha tanti sofismi contro ogni generoso sentimento l'irrisione della morale che ho sentito quando ero ragazzo negli anni settanta e quando ero giovanotto negli anni ottanta la morale la morale la morale non conta niente sono retorica borghese quello che conta sono i fatti economici e al massimo l'illuminata avanguardia di un partito un piccolo gruppo di partito illuminato l'avanguardia illuminata politica ma no al massimo la politica dell'avanguardia illuminata oppure l'economia la morale retorica borghese retorica borghese egli il cinico dice la mia patria è il mondo il cantuccio nel quale nacqui non ha diritto alla mia preferenza da che non può sopravvanzare in pregi tante altre terre dove si sta o ugualmente bene o meglio come quando negli anni settanta sentivo che in Russia si stava pazzesco no? però chi ha la mia età lo sa che si dice che in Russia si sta meglio si o no? sto inventando io? o si dice che la mia anni settanta? vi risulta? si o no? vi risulta? non è una mia invenzione non sto inventando l'amor patrio dice il cinico non è altro che una specie di egoismo accumunato tra un gruppo di uomini per autorizzarsi a odiare il resto dell'umanità a odiare i negri a odiare come si dice a Brescia i giargianesi perché noi occidentali o noi italiani siamo pieni di privilegi e ci accumuniamo in un egoismo contro invece il nostro dovere di di che cosa? è anche la retorica che si sta meglio nei paesi del terzo mondo anche questa non detta con una teoria sistematica perché ogni cosa pazza detta con una teoria sistematica crolla nella sua stessa esplicitarsi mostra che è un'idea pazza ma in maniera sottile anche se pressante è acqua cinese stillante costante per anni circola e lo si è vista circolare questa idea qua ora l'amore patrio non è che una specie di egoismo accomunato tra un gruppo di uomini per autorizzarsi a odiare il resto dell'umanità ma commenta Pellico Silvio Pellico chiamare accomunato egoismo questa simpatia e l'accordo tra gli interessi tra i membri di un popolo sarebbe quanto se la mania della satira volesse vilipendere l'amore paterno e quello filiale dipingendoli come una congiura mafiosa tra padri e figli perché si privilegia una vicenda per poter sprezzare gli altri quasi che non si capisce che noi siamo educati negli affetti vicini e nasciamo per necessità questa è la realtà negli affetti vicini ma se siamo educati negli affetti vicini poi ci spandiamo allora l'internazionalismo del marxismo vetero o neo è stata quella cosa che anche a me personalmente come ho detto prima mi ha allontanato dallo studio dalla conoscenza delle direttive che emanano da questo il migliore momento della storia di noi italiani il migliore momento della storia di noi italiani non sono state mica il rinascimento con le leghe sante la lega di Cambrai i papi che andavano di qua andavano di là o franzo spagna basche se magna mica è stato il rinascimento bei quadri begli affreschi ma sceleratezze viltà sottomissione mica sarà stata la controriforma l'età barocca in cui la Spagna dominava in cui si aveva paura delle delazioni dei gesuiti in cui anche morte anche chi ha grande orgoglio e carità di patria come Benetto Croce ammette che nel diciassettesimo e prima parte del diciottesimo secolo sono morte le nostre arti tanto per dirne uno il migliore momento non mi sembra neanche quello della resistenza la resistenza anche qua che tormentone ho avuto lungo la mia vita la cosa della resistenza non ho nulla contro chi è morto chi è dato la sua vita combattendo i nazifascini ma figuriamo ma sono pochissimi i quattro gatti erano pochissimi i quattro gatti erano pochissimi i quattro gatti che ha liberato l'Italia è stato il generale Alexander che ha liberato l'Italia a posto che uno pensa che sia stata liberata dal nazifascismo ma chi pensa che è stata liberata dal nazifascismo è stata liberata dal generale Alexander non certo da noi che noi noi eravamo i nazifascisti ecco beh al tempo del risorgimento noi non eravamo i nazifascisti il sentimento ontostriaco era diffuso era abbastanza diffuso qua prima o poi per non essere faciloni o schematici vanno a distinguere nelle varie aree d'Italia nelle varie classi sociali certamente ma era abbastanza ubiquitario anche il retrivo reazionario Pio IX aveva un sincero schietto sentimento anti-austriaco adesso però voglio dire contro l'attuale destra perché io ho anche vissuto lungo l'arco della mia vita la destra e la destra come ho voluto specificare cos'è la sinistra in Italia che non sono i liberal degli Stati Uniti non sono i laboristi francesi non sono i socialdemocratici scandinavi ma sono quelli che vi ho detto quelli che dicevano ad avvenire Baffone e Baffone era Giuseppe Stalin attenti borghesi ancora pochi mesi così anche la nostra destra specularmente specularmente non è un caso che specularmente sia così mica è la destra di De Gaulle mica è la destra di Winston Churchill perché Winston Churchill era della destra inglese i conservatori i torres De Gaulle come sapete era un generale dell'armè mica era un sindacalista comunista e ha fondato quel partito che ancora oggi è la destra francese il gollista i vari partitini o partitoni gollisti beh la destra francese la destra inglese quelle lì non sono la nostra sapete perché? perché la nostra destra è quella che si richiama in varie forme con vari velamenti vari velamenti ma di fatto alla dittatura fascista spegnere la libertà di stampa combattere la separazione dei poteri stroncare la magistratura indipendente deprimere al massimo le associazioni avere xenofobia verso gli stranieri esattamente il fascismo schiacciare il sindacato deprimere i diritti dei lavoratori quello che ha fatto lungo gli anni 20 poi gli anni 30 è il fascismo la nostra destra si richiama in forme più o meno velate al fascismo non è la destra di Charles de Gaulle non è la destra di Winston Chapin sapete perché? perché la destra di Churchill di De Gaulle è quella che ha stroncato il nazifascismo come una noce ha stroncato piaccia o non piaccia? perché la storia è questa piaccia? non piaccia però è così e contro questa destra vi cito l'ultima lettera di Attilio Bandiera a Giuseppe Mazzini non è la lettera di un ateo gay comunista ma di Attilio Bandiera a Giuseppe Mazzini e quindi conchiusi ed è già gran tempo che la causa italiana è solo una dipendenza dalla causa umanitaria umanitaria e prestando omaggio a questa inconcussa verità mi conforto intanto delle tristizie e delle difficoltà dei tempi con questa riflessione che giovare all'Italia è giovare alla umanità intera niente sovinismo niente xenofobia niente narcisismo nazionalista è l'idea stessa di Mazzini la vocazione della nazione è per risorgere se stessa ma risorgendo aiutare le nazioni sorelle vedete che Mazzini ha fondato la giovane Italia ma ha anche contribuito a fondare la giovane Svizzera ha fondato la giovane Europa ha contribuito a fondare la giovane Ungheria e la giovane Polonia quando stava a Ginevra il suo primo esilio scusate il secondo esilio primo Marsilia secondo esilio Ginevra terzo esilio Londra Giuseppe Mazzini a me da orgoglio a me da orgoglio so che se ne parla male si dice che era uno che non sapeva organizzare e non sapeva organizzare voglio sapere chi sa organizzare che era un parolaio beh se amare la parola e coltivarla per iscritto se ne essere parolaio vabbè adesso però ascoltate io ho citato questo brevemente Dennis McSmith ancora vivente più grande storico del risorgimento più grande storico del risorgimento attualmente vivente non è un italiano ma è un inglese piaccia non piaccia nel 1919 andando al congresso di pace di Versailles vedete la reggia del re sole il presidente degli Stati Uniti d'America Woodruff Wilson si fermò a Genova come Genova è sulla strada tra Washington e Versailles geografia non mi risulta che Genova sia proprio se tu devi andare da Washington arrivare a Versailles cioè Parigi non è che devi passare da Genova capito? non è che anduto con la caravella Woodruff Wilson ha preso la caravella allora no si è fermata a Genova e posò una corona ai piedi della statua di Giuseppe Mazzini e disse che stava mettendo in pratica l'ideale di quell'uomo che per un qualche dono divino era stato innalzato al di sopra del livello comune e disse che neanche William Gladstone un attimo faccio il maestrino di storia Gladstone è il più grande primo ministro inglese di età vittoriana sotto l'imperatrice delle Indie Vittoria il più grande Gladstone dice neanche Gladstone e state attenti lui è un presidente degli Stati Uniti d'America e neanche Abraham Lincoln neanche Abraham Lincoln avevano penetrato a tal punto l'essenza del liberalismo quanto fece Giuseppe Mazzini chi parla non è un gioppino così cos'ha un otronista di qualche comparsata di qualche torso ma è il presidente degli Stati Uniti America che si recava a Versailles per trattare la pace alla fine della prima guerra mondiale sempre a Versailles il primo ministro dell'impero britannico David Lloyd George disse che Damazzini aveva imparato sia il patriottismo sia moderare l'orgoglio nazionale bella questa sia l'amore per la propria patria sia a moderarlo per non farne narcisistica senso di superiorità e oppressione altrui dubito che nella sua generazione sono parole di Lloyd George ci sia stato nessuno che abbia esercitato sui destini d'Europa un'influenza altrettanto profonda pensate dice dubito lo dice un inglese il primo ministro del militare dubito che nella generazione di Marzini ci sia stato nessun altro che abbia influenzato così profondamente che cosa? così profondamente il corso delle azioni dello zucchero così profondamente i destini d'Europa l'edificio di Bismarck sicuramente Bismarck l'unificatore del Reich tedesco l'edificio di Bismarck è crollato mentre l'Europa di oggi è quella di Giuseppe Mazzini Mazzini è il padre della società delle nazioni che Lloyd George su ispirazione di Wilson fondò a Ginevra dove era stato in esilio Giuseppe Mazzini la società delle nazioni di Ginevra è l'antecedente immediato dell'ONU ecco di questo io mi sento orgoglioso perché Giuseppe Mazzini è un italiano di che cosa possiamo sentirci orgogliosi noi oggi italiani come si può nutrire non in un senso illusorio e drogato ma un po' realistico la nostra carità di patria di oggi io sono un insegnante nel più piccolo ho il mio piccolo punto di vista e sarei stupido a non capire che è un piccolo punto di vista parziale eccetera però meglio un punto di vista qualsiasi che nessuno poi chiedono al dibattito a voi altri punti di vista a questa stessa domanda come può nutrirsi oggi il nostro amore oggi è orgoglio di essere italiani come insegnante seguo quello che scrive Lucio Russo uno scrittore che apprezzo molto è un fisico che insegna la sapienza di Roma fisica nel suo libro sulla scuola italiana dice la scuola italiana è una particolarità che la distingue da tutte le altre scuole del mondo per tre anni adesso lui scriveva prima la riforma per tre anni nella scuola superiore si insegna la storia del mondo due anni la storia antica un anno il medioevo e solo si concentra sulle vicende più nazionali solo nel quarto nel quinto anno questo non succede in Francia non succede in Germania non succede in Inghilterra non succede negli Stati Uniti d'America dove principalmente c'è la storia del proprio paese e poi sempre ricordo l'Ugiorusso che nel liceo classico italiano è l'unica scuola del mondo dove tutti non come opzione per qualcuno ma come tutti gli iscritti studiano il greco antico che non è precisamente una materia per una società consumista ma ha un tot di disinteressato ecco un piccolo punto di vista per costruire il piccolo il grande sarebbe ridicolo è un punto di vista anche perché grattando sto cercando di grattare cosa posso sentirmi di certe personalità mi sento orgoglioso di Dante Lighieri mi sento orgoglioso di Galileo Galilei mi sento orgoglioso di Cesare Beccaria mi sento orgoglioso di Giuseppe Mazzini del conte di Cavour di Veneto Croce di Enrico Fermi la scuola dei fisici di Via Panninsperc ma mi sento orgoglioso però anche non mi nascondo che sono tutti morti da un pezzo sono tutti morti da un pezzo a voi io finisco allora sicuramente interessantissimo sicuramente pieno di spunti e io che guardavo a fianco degli appunti ho visto che c'erano altrettante pagine che sono state per motivi del tempo tiranno appunto saltate io spero che da tanta appassionata relazione vengano qualche domanda da parte del pubblico qui c'è un microfono volante vi prego di parlare al microfono perché se no dopo la registrazione non potrebbe registrare la domanda e il nostro relatore è qui per rispondere agli altri punti di vista ecco c'è una domanda se puoi venire qui al un bel molo del centro studi Civitanovesi salve tanto complimenti per non solo per i contenuti ma anche per la passione nella presentazione due o tre riflessioni e una piccola domanda intanto grazie per le suggestioni di lettura io incalzerei sui diari di Cavour che secondo me sono molto interessanti per chi fosse rimasto spaventato dall'idea del suicidio diciamo anche che Cavour era un uomo di mondo aveva viaggiato forse c'era anche qualche eco romantica aveva disperso molti soldi con il gioco quindi era una personalità complessa e volevo aggiungere tra le suggestioni di lettura agganciandomi a quella riflessione insomma su destra e sinistra che forse in questa fase va recuperato anche Tocqueville che era un nobile francese che già nell'ottocento era andato in America ne aveva visto i pericoli della democrazia e aveva suggerito come rimedio per questi pericoli lo sviluppo dei corpi intermedi le associazioni forse anche la famiglia forse i quartieri insomma tutto quello che forse Alexide Tocqueville che peraltro era insomma un nobile francese esatto nobile e magistrato e come domanda insomma tutte queste riflessioni quello che mi mi sorgeva ma principamente forse era venuto fuori è se si può parlare di una spiritualità o di diverse spiritualità visto che abbiamo sentito diverse voci e se queste diverse spiritualità sono come dire italiane nazionali sovranazionali se fanno parte come dire di un sentire comune di un popolo eletto dico tra virgolette nel senso deputato al fare gli italiani come c'è nella citazione iniziale o se invece forse vanno calcolate anche le spiritualità di quelli più semplici io occupandomi storia leggendo quello che avveniva nei consigli comunali vedo che poi invece molti pensavano come dire all'estendere il dominio del proprio comune a ripristinare la virtù della nostra antica repubblica eppure anche lì a volte ci sono uomini che non lo fanno come dire per macchiavellismo ma proprio per un sentire della propria piccola patria quindi diciamo ecco la riflessione era un po' questa ecco io già ho citato la riflessione che faceva Ippolito Nievo sulla sua patria della Repubblica di San Marco e come vedi vede è autocritica non è non esprime nessun campanilismo anzi dice coloro che adesso ci vendono fanno bene e parla delle persone del direttorio per mano di buona parte noi siamo sempre abituati a a Foscolo giovane che compose statuare mi suicido ho Iacoportis peggiore tra le opere di Foscolo per la patria di Venezia venduta al via all'Austria ecco a lui voglio a me stesso perché l'ho imparato da poco e anche a voi comunicarvi contrappongo Ippolito Nievo e mentre Cavour stava con le sue amiche le serbelloni mazzanti dal mare Ippolito Nievo andava con i mille di Garibaldi eccolo di Ferencina ed era molto autocritico verso la propria repubblica la prima parte che si ambienta nel castello di Fratta lì nel Friuli è una senza esagerpazione senza risentimento è anche molto lirica e per questo consiglia anche proprio come romanzo questo qui ma è una descrizione di un disfacimento ora nelle pagine invece di Settembrini dei Santis sono fortemente critiche di Re Bomba che era Re Bomba era Ferdinando II di Borbone detto Re Bomba parlava in dialetto non è il primo cioè quelli di adesso non sono i primi ministri che si compiaciono di sedurre il popolino parlando in non è il primo lo faceva anche Re Bomba e la situazione dei carceri del regno di Sicilia è denunciata come turca da Settembrini e dei Santi e Settembrini come dire poteva visitare le hotel non so se mi capite le sensibilità certamente erano diverse ora però non esalterei questa cosa marxista o vetro marxista o neomarxista o populista o cattolicarda pietista o buonista del popolino no guarda Ippolito Nievo nota che nei 1086 che col Piemonte e col Leombardo salparono non per fare una crociera di Pasqua non ci fu mai nessuna spedizione militare così composta da persone colpe da così tanti laureati all'interno dei volontari combattenti Goffredo Mameli come più volte vi ho ricordato morì a 21 anni e mezzo però aveva già scritto una tragedia in cinque atti Giovanni Nanovi ambientata nel XVI secolo a Genova e ci ha lasciato sono online scritti rare ed inediti consultabili gratuitamente su internet e ci ha lasciato gli appunti dei dei cosetti spogli di lettura quando uno prende gli appunti mi capitava anche a me in gioventù adesso non tanto ma di prendere di di ricopiare delle parti che mi interessavano dei libri che leggevo beh lui a 16 17 18 anni ci ha lasciato degli spogli sono consultabili gratis liberamente su internet di della Bibbia di Lord Byron di Giuseppe Barini di Ludovic Ariosto di Alexandre Dumas di Edward Gibbon di Voltaire di Foscolo di George Sand di Hugo di Sioux di Seneca di Madame de Stal di Rousseau di Ghisot di Tito Livio di Lamene di Platone studiava il ragazzo per dire una sensibilità perché se no se lo immagina solo con la sciabola ma la sciabola come era collegata a queste letture punto di domanda Cavour aveva io li ho letti questi diari questi diari continuamente sin dall'adolescente espone questo suo ideale l'ideale del juste milieu che non capiscono né i razionari tipo principe di Canosa né i radicali di sinistra sinistra allora che non era marxista ma erano quelli alla Broferi alla Valerio Piemontesi e poi si trovavano tutte e due osserva Cavour nei suoi diari a odiare l'Inghilterra della cultura anglosassone per motivi diversi ma accumunati sia la destra reazionaria sia la sinistra radical repubblicana lui invece aveva questa spiritualità quella del juste milieu e a un autore che nei nostri manuali niconostri quelli che hanno solcato la mia vita sia come studente adesso come insegnante io i nostri manuali di ispirazione marxista è sempre maltrattato brevemente ma quella breve trattazione è una maltrattazione e cioè Ghisò Ghisò da noi è come una specie di vampirello nei nostri manuali impera beh era l'idolo di quel gioppino che era il conte di Cavour il suo idolo era Ghisò diverse sensibilità perché quella di Pellico è una sensibilità molto conciliatrice non a caso ha fondato il conciliatore la rivista cioè ma è polemico adesso una delle voci che non ho trattato è quella della misantropia di quel vizio di essere indignati nell'indignazione gasarsi autogasarsi diventare polemici unilaterali manichei e non amare più far morire l'amore far aumentare l'odio l'amara indignazione l'amaro piacere di additare difetti eccetera e lui non aveva questo carattere la sensibilità di Silvio Pellico era molto mite era molto conciliatrice anche quando parla dei suoi persecutori i suoi giudici i suoi carcerieri forse qualcuno all'eterno di prigione sa che tra le pagine più commoventi di questo libro ci sono quelle riguardanti il suo carceriere invece la sensibilità la spiritualità di Garibaldi era tra tutte quelle che ho visto che ho citato adesso in questi nomi che ho citato la più polemica quella di Garibaldi Garibaldi era molto polemico Garibaldi scrisse la madre di Mameli quando era già morto Mameli non Garibaldi se non poteva scrivere quanta diversità di indole negli individui mentre all'apparenza si direbbero della stessa natura io a volte anche faccio questa riflessione con me stesso non spesso a volte a volte a volte mi capi e c'è che noi come dire a livello fisico siamo tutti l'ordine dei primati cioè vertebrati come tipo come classe siamo mammiferi come ordine siamo primati cioè abbiamo due arti inferiori due arti superiori il pollice opponibile queste cose qua siamo molto simili a livello fisico ma a livello morale quanto siamo diversi contiamo diciamo gli esempi Goebbels Hitler non so tanti altri e poi non so mettiamo appunto persone come Mazzini come madre Teresa di Calcutta come Gesù Cristo non lo so cioè a livello morale siamo abissalmente diversi mentre a livello fisico ci assomigliamo assai cosa è nota? ecco vedi qua sto tirando fuori la mia spiritualità polemica ovviamente perché sto citando appunto questa di Garivaldi che è così quanta diversità di indole negli individui mentre l'apparenza si direbbero della stessa natura sotto l'aspetto di uomini vedete le parole scelte da Giuseppe Garivaldi sotto l'aspetto di uomini brulicano certi esseri che dell'uomo sono la vergogna nati come gli insetti roditori o come le velenose erbe ciurmaglia che affligge il genere umano e ne ritarda o ne fa vano il progresso da un'altra parte voi vedete una letta schiera giovani principalmente votarsi a ogni disagio della vita a ogni sacrificio alla morte per il bene dell'uomo patria e dell'umanità ecco qua troviamo un tono polemico che per esempio nella spiritualità di Silvio Pellico non c'era e perciò direi sì ci sono spiritualità diverse cioè ideali etici che poi si interfacciano con la psicologia conscia preconscia inconscia di un vissuto comunque integrale delle persone diverse certamente e però non dico nulla di originale a dire che una delle meraviglie del risorgimento è che delle personalità che andavano nell'intimo delle psicologie così diverse come Giuseppe Mazzini Giuseppe Garibaldi il conte di Cavour e Vittorio Emanuele II non per un piano loro un studio particolare sa che non è per un piano loro hanno litigato tutti questi qua che ci ho detto hanno tra di loro litigato tutti Cavour ha litigato con Garibaldi e voleva ammazzare Mazzini Garibaldi anzi Mazzini aveva litigato con Garibaldi perché si è sentito tradito con la società nazionale ad Azzeglio quando era per dargli il primo incarico di governo Vittorio Emanuele II a Cavour diceva questo qua non lo voglio lo diceva in piemontese che non so ripetere perché non sono piemontese questo qua non lo voglio è antipatico non lo sopporto questo oscenità ci inculerà a tutti Vittorio Emanuele a Giuseppe D'Azzeglio sul conte di Cavour e il conte di Cavour con Garibaldi l'ultimo discorso tra gli ultimi discorsi che sentì che fece Cavour fu un discorso contro Garibaldi prima di morire anche lui è morto giovane sapete che è morto non aveva ancora raggiunto i 51 anni a 50 anni e mezzo è morto il Santina nella camera ho visto la camera è stato l'agosto scorso la maschera mortuaria è morto ancora non si sa bene di che cosa è morto comunque è morto giovane io sono già più vecchio di Cavour Barolo o non Barolo perciò la cosa meravigliosa è che queste diversità si siano unite mica per il loro progetto appunto ripeto hanno litigato tutti questi qua hanno litigato con tutti gli altri altre domande ascoltando anche in questi giorni quello che viene detto sui giornali in internet in televisione no pensando a quello che il risorgimento è stato anche in generale mi verrebbe da riprendere due versetti di uno degli ultimi canti dell'inferno di Dante nati non poste a vivere come bruti ma a seguire virtù e conoscenza Odisseo parlando ai propri uomini li sprona all'azione l'azione è stato quello che ha fatto muovere i giovani nel risorgimento italiano il risorgimento infatti nell'azione è stato fatto anche dai 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 giovani lo abbiamo visto appunto Ippolito Ippolito Nievo Mameli ecco io ascoltando la sua conferenza ascoltando ciò che lei ha detto ho riflettuto anche su quello che lei ha detto ho cercato di leggere tra le righe ho apprezzato la sua ironia però ho ascoltato due volte la ripetizione del termine machiavellico e non penso di aver generalizzato un po' troppo utilizzando questo termine cioè Machiavelli nel suo pamflet militante di politica militante lui vuole spronare i medici affinché prendano in mano la situazione politica di Firenze affinché prendano in mano l'Italia e formino uno Stato Unito quindi lui sprona al materialismo sprona all' all'ecocentrismo quasi però lo fa perché vede che non esiste questa voglia di unire c'è troppa anarchia ancora secondo Machiavelli troppe persone anzi vogliono il potere e alla fine nessuno lo ha quindi lei ha usato per due volte il termine machiavellico parlando appunto del risorgimento non so allora sono due spunti che tolgo da questo intervento comincio dal secondo e cioè su questo uso della parola Machiavelli che ricordo al giovane ascoltatore e a tutti che l'ho usato citando dei doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini i due mali principali dei italiani sono il machiavellismo e il materialismo adesso non vorrei entrare a discussioni sul singolo avvissuto biografia e sulla statura morale possiamo stare con l'intellettuale morale di non voglio entrare in questo caso ma nell'uso del termine comune non del nome proprio Niccolò Machiavelli ma della parola comune machiavellismo allora il machiavellismo Mazzini in questo passo del suo capolavoro i doveri dell'uomo la usa perciò che se non vogliamo riferirci allo sfortunato segretario fiorentino usiamo come quella cambiamo parola e cioè quest'idea che le regole si possono infrangere continuamente da non far attraversare i pedoni sulle strisce ad evadere le tasse noi abbiamo un'evasione fiscale percentualmente 5 volte più alta che gli Stati Uniti d'America 5 volte più alta degli Stati Uniti d'America certo non in termini di gettito fiscale assoluto perché loro sono 300 milioni di persone in termini percentuali pagare le tasse da comunisti e allora tutti gli americani sono comunisti beh infrangere regole in maniera anarchica individualista credendo di essere più furbi lasciamo stare il segretario fiorentino il primo spunto è quello sui giovani è citato il 26esimo canto dell'inferno e la piccola orazione di Ulisse prima che affondi la nave del suo ultimo viaggio è riferita però ai giovani specificamente i giovani in Italia come ha ricordato il nostro presidente della Repubblica a Capodanno stanno vivendo una situazione che per esempio io e chi ha una certa età non ha vissuto quando era giovane sul piano la società li respinge come a noi non ci ha respinto come a noi non ci ha respinto notate che Napolitano e io dietro di lui stiamo osservando dicendo il contrario di quello della schifezza che si usa in tempo di dire la schifezza è sentire gli anziani che maltrattano i giovani che dicono noi una volta quando eravamo sessantottini badavamo alla politica badavamo al bene comune non dormivamo con voi videogiochi videogiochi a fannulloni con le cuffie voi siete delle amebe noi invece è l'infima l'aus tempo di sacri l'infima livello infimo al contrario cosa osserva il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non sta dicendo quei noi giovani quegli eschimo che fezza busia soprattutto falsità noi studiavamo di più noi stavamo dei videogiochi ma non ci stavano i libri che scaffali c'erano di libri nei famosi anni settanta in quali tinelli in quali scaffalature di cameretta di adolescenti degli anni settanta c'erano libri balle Giorgio Napolitano invece osserva al contrario che i giovani di oggi sono più sfigati di noi non più demeritevoli o amebe o videogiocari ma più sfigati perché uno su tre è disoccupato non so se lo sapete ed adesso si sta alimentando una nuova emigrazione non quella con la valigia di cartone con lo spago dei primi del secolo ma mia dame cento lire che non me ne voglio andare ma quella dei laureati italiani che siccome qua per avere uno straccio di posto anche degradato anche degradato al quadrato anche da commesso che deve stare zitto nelle sale dei musei comunali di cose artistiche anche solo per tre mesi bisogna avere la raccomandazione di un amico che è stato raccomandato dalla sua fidanzata e questo cosa lo sto dicendo non per esempio vivace e pittoresco perché mi risulta da un ragazzo che ho conosciuto nella ludoteca tanti anni fa a Brescia che adesso fa questo questo lavoro qua in cui poi cosa grotesca li proibiscono di fare da guida li proibiscono di dare informazioni di storia e l'arte in queste camere da museo è proibito deve stare zitto è un regolamento e lui ha avuto la cosa da un amico il quale amico ha fatto altre cose aveva lasciato come dire questo posto meraviglioso di essere il ragazzo solitario silenzioso per tre mesi in un'aula dei musei di Santa Giuda di Brescia e l'aveva lasciato lui come raccomandazione ma dove l'aveva avuto questo suo amico dalla sua ragazza che era più grande di lui di quasi dieci anni come l'aveva avuto questa ragazza l'aveva avuto quando era stato fondato da una stessa persona con due nomi diversi in questa società in Veneto a Verona che ha avuto un appalto dall'assessore socialista di allora e allora siccome era appena iniziata questa cosa della delega alla privati da parte del pubblico della gestione delle mostre d'arte o delle cose dei musei non c'era ancora personale allora questa ragazza era entrata poi l'aveva affidanzato poi era comandato questo ma per fare un lavoro trimestrale a termine dequalificato lui che è laureato a pieni voti in storia dell'arte questa è la cosa questa è l'idea allora un ragazzo che non voglia essere umiliato continuamente cosa deve fare? emigrare noi siamo il paese dell'Unione Europea noi siamo l'idea d'Italia in cui più alta è l'immigrazione dei laureati lo sapevate? lo sapevate? ecco fatti non vostre per vivere come brutti sì giusto giusto dobbiamo dirlo a noi stessi noi vecchi voi giovani così dobbiamo dirlo in maniera diversa secondo i bisogni diversi e reagire come diceva quel Giuseppe Ricciardi sorgi Giuseppe altre domande? cosa dite la mia domanda? oggi di cosa dobbiamo essere orgogliosi noi come italiani? che speranze possiamo che su quel positivo possiamo concentrarci? ragazzi ok sul negativo no? facile no? perché positivo? non rispondo esattamente alla domanda ma perché non lo so in questo momento faccio una considerazione questo ciclo altri sorgimenti come le manifestazioni per i 150 anni oggi intanto siamo stati fino a 35 persone quindi abbiamo fatto sì che in tutti i 10 appuntamenti che abbiamo fatto la visita guidata di luglio il convegno di dicembre e le 8 conferenze siamo arrivati a 422 persone questo è per tirare un po' le somme che non è una cifra bassissima per una iniziativa che è andata quasi controcorrente e contro molte altre istituzioni che non ci hanno aiutato quelle che invece sono deputate a farlo comunque invece stavo dicendo l'occasione di 150 anni di questo ciclo in particolare e mi rendo sempre più conto di aver avuto una buona intuizione è stata quella di riflettere su questo periodo che come ha detto anche il relatore spesso e volentieri a scuola non si studia o viene bistrattato o c'è stata data una versione comunque parziale e andando alle fonti e oggi Franco ci ha dimostrato come andando a leggere i diari le memorie i romanzi le lettere dal carcere prima di essere fucilati e come altri relatori penso a Giraudo penso a tutti gli altri la Pelliciari ci hanno citato atti parlamentari memorie scritte leggi tutti i documenti che per fortuna ora internet bene o male rende disponibili quasi a tutti facilmente ecco studiando queste cose anzitutto pensiamo come è complicato questo periodo e come lo conosciamo poco e poi quante sfaccettature perché ecco io di queste conoscevo alcune cose come per esempio Polito Nievo anche solo perché il pronipote Stanislao Nievo vi ricordate ha chiesto l'aiuto di Pasqualina per risolvere il caso del suo del suo avo fondato in fondo al mare con il romanzo un prato in fondo al mare o una cosa del genere non mi ricordo il titolo preciso ecco di Stanislao Nievo venne a Civitanova per chiedere a Pasqualina di scendere negli abissi per vedere se si trovava in relitto però dicevo alcune cose si sa alcune no e questa è stata l'occasione per chi ha voluto coglierla e voi siete fra questi e Franco l'ha colta in maniera molto approfondita di studiare le fonti e quindi poi farsi un giudizio o comunque cambiare l'opinione che noi avevamo quindi le cose positive per esempio io vedo che in questo momento abbiamo saputo cogliere come lo sarà magari con un altro anniversario fra un po' di poter approfondire cose che o si non si sapevano o si sapevano in maniera parziale senza essere andati alle fonti invece la domanda che faccio adesso il coraggio il coraggio di non chinare la testa il coraggio di andare contro correnti il coraggio di non osseguare i potenti lo si vede in tanti campi io personalmente anche nel mio vissuto questo è molto difficile però certo lo si può vivere sotto due aspetti questi personaggi lo vivevano principalmente come un qualcosa di etico morale però laicamente e poi per certe persone ci possono anche dare un'ammantatura un plus valore mettendoci finalità o comunque escatologie religiose io voglio soltanto dire che abbiamo visto tante volte la parola religione Mameli nel suo inno cita la parola religione però e questa è una domanda da relatore che fossero alcuni almeno massoni e atei e anticlericali questo sì chi era anticlericale a me mi risulta essere Garibaldi Mazzini è critico del clero ma come anche nel ventesimo secolo si trovano cattolici liberali che sono critici del clero cioè senza averci puntato tanto o con lacrimonia il veramente anticlericale era Garibaldi e Silvio Pellico invece era un sostenitore diciamo di tutto un po' tutta l'organizzazione perciò anche del clero e Cavour Cavour in questi diari che sono solo giovanili lui poi a un certo punto smette di scrivere intimamente di riflettere di esprimere il suo intimo e presenta solo conti economici basta poi si esauriscono questi diari e poi vive poco ricordiamoci però nei suoi viaggi che sono viaggi in tre posti più volte in Svizzera dai parenti della madre poi a Parigi e poi in Inghilterra in queste tre zone dove lui va ripetutamente e lui ha una e poi oltre che nel regno di Sardegna lui ha una frequentazione di membri del clero di teologi sia cattolici sia calvinisti sia anglicani secondo i paesi dove va fino a di rispetto si interessa argomenti religiosi e ci si vede una persona certamente è una statura che è incommensurabile ai politici di adesso per cultura per non so per sensibilità a interrelanciarsi con le persone lui diceva io non mi annoio mai perché non mi annoio mai perché in ciascuna persona ci trovo il lato non noioso ho visto ho trovato la Santena che è la villa dei Cavour da due chilometri da Torino l'agosto scorso c'era la mostra di onoreficenze cavuriane ha avuto le onoreficenze più alte dall'impero britannico l'ha avuto dall'impero ottomano l'ha avuto dall'impero francese l'ha avuto degli Stati Uniti d'America Camillo di Cavour ricordo che qualche mese fa c'è una persona che ha detto io sono il più importante capo del governo da 150 anni beh io ho visto l'agosto scorso le onoreficenze date al conte di Cavour e sapeva trattare quelle persone non aveva nessuno spirito anticlericale e la sua ultima idea che è stata strozzata perché è morto giovane era quella di regolare nella maniera più armoniosa i rapporti con Roma la sua ultima idea che appunto non si gioca Roma con il Papa e dunque questa anche questa perché noi abbiamo avuto come dire tre tradizioni contro il risorgimento secondo me nell'arco della mia vita la più potente è stata quella marxista nell'arco della mia vita quella contro l'ideale la stima la figura l'amore per queste figure e anche proprio la contatto con la loro eredità è stata immersiva per me e vi dico la mia testimonianza in secondo luogo adesso solo negli ultimi anni non in tutto l'arco della mia vita solo negli ultimi anni è stata questa cosa leghista campanilista localista leghista secessionista secessionista leghista bossista campanilista pensate a Brescia sapete Brescia è la leonessa d'Italia io ci sto qua abito a Brescia dall'86 da un sacco di anni beh quest'anno c'è il centocinquantenario c'è un patto tacito tra il PDL e la Lega che co-governano la città di Brescia che non debba essere fatto a niente dal comune per celebrare il risorgimento io poi adesso voglio entrare in dettagli per annoiare eccetera però io so perché sono anche direttamente coinvolto in uno di questi episodi ma ma Brescia la leonessa d'Italia le dieci giornate contro il generale il maresciallo Ainau al centocinquantenario e tutti noi che lo stiamo vivendo certamente gli assessori Epifero Paffero del comune di Brescia saremo stramorti quando ci sarà il duecentesimo saremo stramorti non è che celebraremo un altro non celebriremo un altro non hanno voluto vogliono occultare la celebrazione del risorgimento di Italia a Brescia questa è degli ultimi anni questa contro risorgimento poi devo dire che noi siamo in Italia paese cattolico grande maggioranza sapete un cattolicesimo che spesso si è detto molto vicino all'ateismo all'indifferenza religiosa cattolico di baciapile nella lato esterno macchiavellico religio strumento un regno ma poi nell'intimo ateo indifferente o freddo queste magari sono esagerazioni anche queste penso di fatto questo cattolicesimo è un menino sociologico diffuso e questo devo dire che anche adesso ha pesato mi sembra che abbia pesato meno comunque di questi altri più componenti che ho elencato prima nell'arco della mia vita anche facendo questa mia istruzione tardiva sul risorgimento mia ho visto come quanti preti quanti frati hanno scritto hanno esortato hanno predicato a favore del risorgimento oppure sono andati col trombone quattro frati di un convento francescano alla battaglia di Caratafimi sono sopravvissuti sono tornati nel convento dove avevano quindi già dei tromboni se no non prendono Don Tazzoli mai sentito? Tra i martiri di Belfiore dunque c'è qualche cosa che anche se per la questione romana e per la questione di gerarchia c'è stato certamente questo conflitto tra la chiesa cattolica e Savoia e lo stato unitario che si stava formando però c'è stato anche la chiesa non è fatta solo la sua dirigenza non è fatta solo la questione politica c'è questo aspetto temporale ma c'è anche l'aspetto spirituale della chiesa non c'è solo quello temporale ecco non mi sembra che sia stato questa è la mia testimonianza la forza più grossa più grossa di tutto mi sembra il marxismo in secondo luogo questo però è più recente questo localismo bossista calderolista secesionista in terzo luogo che quando diciamo i preti sentono che c'è qualche altro ideale che si assurge alla potenza di quello religioso cristiano perché è tale potente che sì che un essere umano possa dare la vita per esso diventa gelosa poi c'è stato il fascismo il fascismo adesso non ho riflettuto molto sul fascismo riguardo al risorgimento perciò magari dico delle cose delle corbellerie se dovessi fare un discorso generale una cosa particolare invece però voglio dire che io all'altere di questa mia conferenza ho fatto anche con i ragazzi della quinta il scientifico dove insegno una recita da trale sul risorgimento e per renderla più vivace con anche delle musiche di contorno musiche dell'epoca cioè musiche risorgimentali cioè Flock l'inno dei bersaglieri di La Marmola dalla guerra di Trimea piuttosto che il canto dei volontari toscani di Curtatone Montanara addio mia bella addio piuttosto che il coro del Nabucco piuttosto che il l'inno d'Italia di Mameli e ce ne sono varie altre c'è viva Carlo Alberto c'è l'inno dei Garibaldini scoprono le tombe e si levano i morti dove ho trovato gli mp3 online solo sui siti fascisti cioè dei nostalgici di Salò lungi da me dire qualcosa di positivo sui nostalgici di Salò di Repubblichini però visto che si sta parlando di risorgimento osservo che il non depreciamento almeno di queste cose che sono le musiche che emergono dal risorgimento queste musiche sono risorgimentali emergono dal risorgimento dove si trovi? nei siti fascisti non sto fuori per fare un torema mica per fare un torema sicuro perché ho voluto adesso non omettere ho voluto non omettere nelle tradizioni italiane del ventesimo secolo in cui sono nato e sono un uomo diciamo del ventesimo secolo posso dire io ho citato queste che hanno colpito hanno solcato la mia vita e riguarda risorgimento il fascismo mi è sembrata la meno ostile poi indirettamente anche nociuto è il fascismo risorgimento perché l'ideale patriottico di Mazzini lo ha trasformato in proprio ciò che Lloyd George se avete sentito la citazione aveva detto no? io ho imparato da Mazzini sia l'amore di patria sia a non avere l'orgoglio narcisista nazionalista a moderare questo orgoglio nazionale certo Mussolini i fascisti mica l'hanno moderato no? con quel tappetto re d'Albania imperatore di Etiopia e poi alleato con Adolf Hitler con la guerra parallela spezzeremo le regni alla Grecia lì mandando anche l'armir in Russia certo non era la difesa del patriosuolo perché la Russia mi costa migliaia di chilometri più lontana da Rustivale ora certo questo nazionalismo prepotente imperialistico che il fascismo ha portato avanti con le parole prima con i fatti poi anche se fatti fallimentari ha contribuito a dare qualcosa di negativo all'altro ideale l'ideale del patriottismo io dico sempre ai miei studenti però ho notato che anche Dennis Masmit nella sua monografia su Mazzini osserva che bisogna è opportuno usare due parole diverse per indicare la carità di patria l'amore di patria due diverse per evitare confusione l'amore mazziniano per la propria patria che non sia sottomessa a nessun padrone ma che possa espandere viva i suoi beni chiamiamolo patriottismo mentre l'orgoglio narcisistico xenofobo di credersi superiori e volere colonizzare in qualche modo gli altri questo chiamiamolo nazionalismo distinguiamo le parole patriottismo nazionalismo allora io penso che non ci siano altri interventi noi con questa ottava e ultima conferenza di franco manni sulla spiritualità e la carità di patria concludiamo il nostro ciclo di altri sorgimenti ricordiamo che fra qualche giorno questa lunga chiacchierata sarà disponibile nel nostro sito www.centrostudicevitolonesi.it a cura di Sergio Fucchi per quanto riguarda il futuro noi adesso ci impegneremo a cercare di stampare gli atti non so se ci riusciremo perché è sempre difficile con le poche risorse poi in questo momento il centro studi attraversa un periodo non tranquillissimo per alcuni fatti che sono successi che sono forse di dominio però ci impegniamo anche perché c'è stato un signore che si chiama Pigini Lamberto Pigini che si era offerto di pagare gli atti e di stampare i nostri atti quindi noi speriamo sempre che si possa fare in pratica le registrazioni che sono sul sito sono comunque già loro degli atti diciamo magari visuali magari in internet però sono già degli atti speriamo di fare un cofonetto ecco magari con questi dvd però la carta stampata sicuramente ancora è più più fruibile ed è più anche bella da vedere noi lasciamo al nostro relatore delle pubblicazioni naturalmente sono tutte di carattere locale in primis la nostra la nostra collana Civitanova immagini storie e poi altre pubblicazioni dell'archeoclub e poi la stampa che abbiamo fatto fare apposta per questo centocinquantesimo da Salvatore Negro e cioè una stampa dedicata come abbiamo visto anche le altre volte ad altri sorgimenti c'è l'Italia con una personificazione che è stata fatta apposta per questa una tiratura limitata quindi diamo questi regali al nostro relatore che poi è Civitanovesi in parte e quindi diamo appuntamento alle altre iniziative del centro studi in futuro grazie grazie grazie